Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento una raccolta di figurine esclusiva dei supermercati Deco, la collezione unici in un gioco di squadra, fatta in collaborazione con la Panini, qui vediamo il logo Panini Family. L'album si compra a parte al costo di 2€, sempre nei supermercati Deco, mentre ogni 20€ di spesa vi viene dato un pacchetto di figurine. Poi ci sono i prodotti cosiddetti Jolly, che con l'acquisto appunto di uno di questi prodotti vi viene dato un pacchetto di figurine in più, quindi oltre al classico pacchetto che vi viene dato ogni 20€ di spesa, se comprate i prodotti Jolly avete un pacchetto di figurine per ogni prodotto Jolly acquistato. Oggi ci vedremo l'album e scatteremo ben 13 pacchetti di figurine. Eccoli qui, vedete. Allora, incominciamo con l'album. Allora, iniziamo. Qui vediamo la checklist. Sono in totale 96 figurine. Vediamo tutte le nazionali scelte per questa collezione. L'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Danimarca, la Croazia, il Galles, la Germania, la Svezia, il Belgio e la Repubblica cieca. Poi, qui c'è anche crea la tua figurina, tutti sono unici e tu non fai eccezione. Che ne diresti allora di essere il protagonista di questa collezione creando la tua figurina personale? Adesso vuoi. Basta andare su www.unici2021.it e seguire le istruzioni su come creare e ordinare la tua figurina su misura. Incolla la tua figurina in questo spazio ed entra a far parte della raccolta. Beh, è un classico della Panini, la figurina personalizzata. Allora, qui vediamo i tipi di figurine che incontreremo in questa raccolta. Per esempio, ci sono gli affidabili per un totale di 30 figurine. Quindi 30 di queste figurine sono i cosiddetti affidabili. Ossia, queste figurine riconoscibili dai bordi bianchi raffigurano i pilastri di ogni squadra e il ruolo in campo in cui ognuno di loro eccelle. Poi abbiamo 24 figurine giocatori chiave, contraddistinte dai bordi gialli. Queste figurine celebrano i giocatori fondamentali nel controllo del gioco. Puoi utilizzarle anche per sfidare un avversario nella sezione Game On. La trovo in fondo a questo album e poi la vedremo. Poi ci sono 24 figurine denominate giocatori con abilità straordinarie. Le figurine dai bordi neri sono dedicate alle abilità straordinarie di giocatori che sanno accendere la competizione con giocate uniche. Possono essere usate anche per giocare a Game On. Trovi sul retro il codice per partecipare al concorso. Poi ci sono 12 figurine denominate icone internazionali. Figurine speciali anche nel materiale. Fogli di alluminio. Sono fogli di alluminio quindi queste icone internazionali. Ci trovi raffigurati giocatori più rappresentativi delle varie nazioni. Possono essere usate anche per giocare a Game On. E vabbè trovi come al solito sul retro il codice per partecipare al concorso. Poi forza azzurri. Icone We Love Italy. Queste figurine di numero 6. Sono in totale 6 quindi. Queste figurine uniche e colorate mostrano esattamente quanto gli azzurri significano per noi. Ecco qua. E poi nel retro delle figurine vedete ci sono delle informazioni extra. Tutte le figurine presentano sul retro informazioni sulla popolazione e curiosità sulla nazione e o sulla città di ciascun giocatore. Bene, molto bene. Un bell'album, una bella iniziativa. Qui c'è l'indice. E qui benvenuti nell'album unici di Panini. Una bella raccolta, una bella iniziativa di Supermercati Deco in collaborazione con Panini. Qui vediamo i primi passi. Campioni, si nasce o si diventa? Una cosa è certa. Tutto ciò che hanno appreso nella vita, in classe, sugli spalti o in campo, ha contribuito a renderli i fuoriclasse che noi tutti oggi amiamo. Ecco qua. Questa è la prima parte dell'album. Questa è la seconda. Dalle persone importanti, qualunque sia la tua professione, ovunque ti porti la vita, l'affetto e il sostegno della famiglia sono beni preziosi che non possono mancare. Verità assolute. Poi c'è fuori dal campo. Spesso i grandi campioni hanno l'abilità di sfruttare la loro fama anche per rendere il mondo un posto migliore, sostenendo cause e benefiche, oppure affrontando con coraggio difficili sfide personali. E qui quindi, per esempio, c'è la figurina di Ginter. Il difensore tedesco ha dato il proprio nome ad un'associazione che aiuta i bambini con disagio fisico, psichico o sociale. La Matthias Ginter Foundation è nata per la volontà del difensore tedesco di usare la mia posizione privilegiata per dare sostegno ai bambini e ai giovani, soprattutto nella mia città, a Friburgo, dice appunto Ginter. Quindi qui ogni figurina è accompagnata appunto dal racconto personale di ogni giocatore che ci racconta appunto ciò che hanno fatto, ciò che fanno nella vita per aiutare il prossimo, quale sfide difficili hanno dovuto affrontare. Questa mi incuriosisce molto. Anche i videogiochi possono essere fonte di solidarietà. Qualche tempo fa, Yankto ha preso parte a una maratona di PlayStation FIFA 20 per accogliere fondi in favore di bambini malati. Ha giocato con una squadra di soli giocatori ciechi e i fan potevano porgli in diretta delle domande e dell'argire donazioni per la causa. 204 minuti giocati, 3 gol segnati. E insomma, vedete, poi volontà e determinazione. Per molti a un certo punto della vita arriva quel momento in cui il sogno sembra definitivamente infrangersi. Le storie che seguono parlano di campioni che sono stati capaci di superare quel momento con determinazione, impegno e un pizzico di fortuna. Hanno permesso loro di raggiungere i propri sogni. E qui, come al solito, ogni figurina, vedete, accompagnata appunto dal racconto della storia. Qui, per esempio, possiamo leggere quella di Giorginio. Insomma, l'album è strutturato veramente molto bene, è fatto veramente molto bene. Ogni figurina accompagnata dalla propria di Tascalia, ogni pagina, diciamo, rappresenta una categoria. Per esempio, qui vediamo il lato nascosto. E poi abbiamo subito di seguito al titolo la descrizione appunto della seguente categoria. Per esempio, il lato nascosto, il calcio è una cosa seria, ma non sempre. Ci sono molte storie curiose legate ai campioni che vi strapperanno un sorriso. Quindi qui possiamo leggere storie divertenti sui vari calciatori. Per esempio, Kovacic, se i giornalisti italiani lo hanno ribattezzato il professore, i suoi compagni di lingua portoghese hanno coniato per lui il ben più bizzarro appellativo di «testa di giaco», facendo riferimento al frutto più grande del mondo per evidenziare le dimensioni della sua testa. E qui continua il lato nascosto, quindi storie divertenti su e dai giocatori. Poi c'è talenti e interessi. Detto l'apparenza c'è molto da scoprire sulle superstar del calcio. Il loro amore per il pallone si mescola con le passioni e gli interessi più disparati, come l'equitazione, la musica e persino lavorare il legno. Quindi qui possiamo leggere gli altri hobby e le altre passioni dei vari calciatori. Per esempio, Barella ha una passione per il basket, oltre che per il calcio. Molto bello l'album, fatto veramente molto molto bene. Qui, cultura e divertimento. Per essere un vero campione serve uno stile di vita che porti a dare il massimo in campo, ma è molto importante anche avere altri interessi che possono aiutare a rilassarsi, a distrarsi per allentare la tensione. Qui vediamo maestri di vita, che ci credete o no, anche i migliori calciatori del mondo hanno avuto o hanno tuttora dei modelli a cui ispirarsi. Poi qui andiamo verso la conclusione dell'album, qui vediamo tutti gli sponsor in collaborazione con Asia, Amatoria, AmicaChips, Grana Patan, insomma vediamo tutti gli sponsor, Gatorade, Ringo, Scott. E poi qui c'è Game On, giocatore 1, giocatore 2, il gioco di cui ci raccontava prima. E qui quindi, gioco per 2, regole, leggiamo le regole. Gioco per 2, ogni giocatore posiziona le sue figurine a faccia in giù sulla plancia, nel rispettivo spazio di gioco. Il più giovane inizia per primo e sceglie la figurina da giocare, decidendo se utilizzare il valore di attacco o di difesa. Quindi saranno riportati i valori di attacco e di difesa su ogni figurina. Il giocatore 2, strada al proprio mazzo, la figurina e confronta il valore opposto. La figurina con il valore più alto vince e viene posizionata in uno dei spazi laterali nel campo del giocatore vincente. Chi arriva per primo a 3 punti vince la partita. Quindi qui posiziona la figurina girata, poi si scopre chi ha il valore più alto. Ti attacco di difesa, decidendo se scegliere il valore di attacco o il valore di difesa. Insomma, chi ha il valore più alto poi lo posiziona qui. E chi arriva per primo a 3 vince. Vedete, quando infatti arriva dal 3 c'è scritto vincitore. E si conclude qui l'album. Adesso ci sono ben 13 pacchetti di figurine da scartare. Quindi procediamo. Così vediamo anche come sono strutturate le figurine. Come sono fatte. Abbiamo un'idea perché comunque ce l'hanno fornita. Per esempio i valori di attacco e di difesa l'album ci ha fornito un'idea. Comunque ecco qui come sono. Qui vediamo Mur del Galles. Quindi è riportata l'altezza del giocatore qua sotto. Qui c'è la bandiera della nazionale di appartenenza, le presenze in nazionale, l'altezza, la data di nascita e il suo debutto in nazionale. Nel retro possiamo leggere la popolazione del Galles, quindi della nazione in questione, la città natale del giocatore, che in questo caso è Torcaio o Torquè, non so come si pronunci bene. Comunque è inglese, il ragazzo è nato in Inghilterra e la popolazione è della città. E qui anche una breve descrizione con le sue bellissime spiagge, Torquèi o Torquèi, non lo so come si pronuncia, si trova in una zona conosciuta come la Riviera inglese. Poi qui abbiamo Ampadu, sempre del Galles. Il giocatore chiave, fa parte della categoria giocatore chiave. Lui è nato ad Exeter in Inghilterra, 129.000 abitanti. E poi qui abbiamo il Gallo Belotti, eccolo qua. Qui ci sono i valori, vedete, di attacco e difesa. Calcinate, popolazione 6.000 abitanti. Ok, quindi ci sono tre figurine per ogni pacchetto. In totale, abbiamo detto, le figurine sono 96. Quindi ci vorranno un bel po' di pacchetti per finire la collezione. Dato che appunto sono 96 in totale. Allora, qui abbiamo dalla Svezia l'Indelof, dipensore del Manchester United. Eccolo qua. Vasteras o Vasteras, se preferite. Qui una figurina di Love Italy. E qui abbiamo una figurina brillante, una figurina icona. Credo che siano quelle speciali, che dicevano prima. Cioè, vediamo un po' se è così. Se mi ricordo bene. Si, ricordo internazionali. Figurine speciali anche nel materiale. Sono fogli di alluminio, infatti. Ha una consistenza completamente diversa dalle altre. Infatti, si sente proprio. Cristiano Ronaldo, abbiamo trovato. Eccolo qui. Ronaldo. Da Funcial Madeira. Allora, proseguiamo. Abbiamo aperto già due pacchetti. Questo è il terzo. Quindi ce ne rimangono ancora dieci. E fino adesso non abbiamo neanche trovato doppioni. Perisic. Spalato, Perisic. Una delle città più importanti della Croazia. Poi qui abbiamo Morata. Alvaro Morata. Due di Madrid. E qui abbiamo Timo Werner della Nazionale Tedesca. Giocatore e attaccante del Chelsea. Per un valore molto alto di attacco. Lui viene da Stoccarda. A 97. Un valore molto molto alto. Cristiano Ronaldo a 100 di attacco e 80 di difesa. Vabbè. Ma lui è un fenomeno. Quindi i valori alti sono più che giusti. Allora, andiamo con il quarto pacchetto. Fino adesso a parte Belotti e quella figurina speciale Will of Italy. Non abbiamo trovato le altre della nostra nazionale. Qui abbiamo Unai Simon. Portiere della Spagna. Vittoria Castelze. La città da cui viene. Ecco adesso ho parlato proprio della nostra nazionale. E abbiamo trovato una figurina speciale Will of Italy. E sotto c'è Marco Verratti. Eccolo qua. Lui di Pescara. Città marittima abruzzese. Poi. Altro pacchetto. Sì, l'ho preso tutti. Abbiamo Ferran Torres. Della Spagna. Fatica a mettere a fuoco. Oh, ecco qua. Poi abbiamo Vlasic. Della Croazia. Eccolo qua. Questo è il retro di Vlasic. Anche lui da spalato. E poi abbiamo di nuovo Belotti. Primo doppione. Eccolo qua. Il primo doppione. Belotti. Di Gallo. Allora. Proseguiamo. Sotto c'è una figurina speciale. Qui abbiamo Ginter. Nazionale tedesca. Poi Joao Felix. E sotto abbiamo Neuer. È uno dei miei calciatori preferiti. Neuer. Difesa 100 ovviamente. Non potrebbe essere altrimenti. Direttamente da Genser Kirken. Gelsen Kirken. La città dello Schalke 04. La mettiamo sopra noi. Squadra in cui per lui. Tra l'altro per lui ha militato. Proprio prima di passare al Bayern Monaco. Squadra che fa il derby col Borussia Dortmund. Qui abbiamo Olsen. Portiere della nazionale svedese. Lui viene da Malmo. Se non sbaglio la stessa città di Zlatan Ibrahimovic. Qui abbiamo una figurina speciale Forza Azzurri. E qui abbiamo Vertonghen. Vertonghen. Pilastro della difesa del Tottenham degli ultimi anni. Poi anche qui c'è una figurina speciale. No sembra. Abbiamo Lovren. Della Croazia. Difensore. Nato però in Bosnia Erzegovina. Poi c'è Danilo Pereira. Del Portogallo. Nato in Guinea-Bissau. E poi abbiamo Ansu Fati. Della Spagna. Nato anche lui in Guinea-Bissau. Stessa da una botta alla camera. Mettiamo a fuoco. Ok. Manca ancora qualche pacchetto. Fino ad adesso è andata molto bene. Perché abbiamo trovato un solo doppione. Se la memoria non mi inganna. Qui abbiamo un'altra figurina speciale dell'Italia. Un pallone. Vedete con la nostra Italia disegnata sopra. Se metto a fuoco lo vedete meglio. Eccolo qui. Sotto abbiamo Ciro Immobile. Nostro bomber. Di torre annunziata. Città che si trova nella regione Campania. E sotto abbiamo Livakovic. Croazia. Immobile a 96 di attacco. E 75 di difesa. Allora qui troviamo un altro doppione che è Olsen. Poi sotto abbiamo lui Patricio. E poi c'è Yannick Carrasco. Del Belgio. Una delle nazioni favolite per la conquista del prossimo europeo. Che inizierà tra qualche giorno. Poi sotto abbiamo qui di nuovo lui Patricio. Altro doppione abbiamo Lustig della Svezia. E poi abbiamo Bernardo Silva. Centrocampista del Manchester City. Portoghese. Nato a Lisbona. Penultimo pacchetto. E poi abbiamo l'ultimo. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi subito al canale ragazzi. Per non perdervi questo e tanti altri video. Mi raccomando. Iscrivervi è gratuito e facile. Più siamo meglio e facciamo crescere la nostra bella community. Community. Abbiamo Schick. Vecchia conoscenza del calcio italiano. Nazionale Repubblica cieca. Altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Nazionale tedesca. Qui abbiamo un giocatore tedesco. Antonio Rudiger. Eccolo qua. Nato a Berlino. E qui abbiamo Kevin De Bruyne. Nella figurina quella speciale. Nelle figurine icone internazionali. Del Belgio. Eccolo qua. De Bruyne. Talento del Manchester City. Ultimo pacchetto di figurine. Apriamola e vediamo un po'. Allora, Unai Simone l'abbiamo già visto. Poi abbiamo il nostro Leonardo Bonucci. E sotto abbiamo la figurina icone internazionale. Quindi quelle speciali. Fatte in alluminio di Sergio Ramos. Di pensore spagnolo. Eccoli qua. Bonucci e Sergio Ramos. Messi uno accanto all'altro. Allora ragazzi. Si conclude qui questo video. Io vi rinvito ad iscrivervi al canale. In descrizione vi lascio anche i link delle pagine Facebook e Instagram. Se volete seguitemi anche lì. Il link del blog. Se volete fateci un salto. E noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli.